Ciao a tutti ragazzi Allora non è una puntata dedicata all'SLKR171 ma è una puntata dedicata alle problematiche Magari questa volta le affrontiamo in maniera semplice perché abbiamo già finito il lavoro perché dovevamo consegnare la macchina Però una problematica che capita spesso e volentieri In questo caso è capitato al Mercedes ma non c'entra assolutamente nulla al Mercedes Nelle nostre Fiat fa danni ben peggiori Quindi si parla della lubrificazione dell'olio, della condensa dell'olio, della morchia che crea l'olio Allora quando vedete tirando via il tappo dell'olio In questo caso è appena stata pulita e ripristinata Quindi quando tirate via il tappo dell'olio, sempre a motore spento Dovete controllare che sotto il tappo si presenti in questo stato Quindi in buono stato Non dovete vedere morchie sulle parti superiori degli alberi a cam Perché? Guardate anche questa per esempio che è il motore precedente a quella Questo è un R-170 Che è fatta diversa Cambiano anche completamente le posizioni degli alberi a cam Non hanno le paratie stagne sopra Quindi qua chiaramente è molto più difficile Che si depositino le morchie nella parte superiore della cam Mentre lì c'è proprio una conca creata da queste paratie di ferro In cui la porcheria dell'olio E gli oli sbagliati, poi lo parleremo Creano questa palta Ecco diciamo volgarmente così Questo non vuol dire che non si crea in altri punti del motore Magari questo va a depositarsi qua e nella coppa Comunque Questa macchina qua cambia l'olio molto spesso Il problema è che l'ha comprata usata E non sappiamo la manutenzione che ha avuto in precedenza Allora Succedono questi problemi per due motivi Il primo è perché non si cambia l'olio Ok? Quindi l'olio invecchia L'olio ha una scadenza Anche se non si fanno chilometri È chiaro Adesso siamo abituati Sono abituati A degli oli che durano molto di più di una volta Una volta esisteva addirittura l'olio stagionale I sei mesi estivo E i sei mesi invernali E cambiava la gradazione Quindi la durezza dell'olio La prima cifra che vedete sull'olio Tipo W1040 La prima è la gradazione a freddo La seconda è il potere lubrificante a caldo Ve lo sto dicendo in termini molto semplici Poi non è questa la terminologia corretta Però Quindi un W1040 è molto più morbido a freddo Di un W1540 Sempre parlando di oli vecchi Questi sono motori molto più nuovi E girano con oli con gradazioni completamente diverse Una volta nelle macchine d'epoca Il 530 Ma anche il 540 non esisteva Quindi i motori di una volta avevano tolleranze completamente diverse E anche se si creava una roba del genere Andare a chiudere un pescante Di una coppa dell'olio Di un 1100 Di una 500 Di una 1 Era molto più difficile Che chiudere un pescante di una macchina del genere Facciamo passare le immagini Di com'era messa La coppa dell'olio di questa macchina Perché Chiaramente la coppa dell'olio Guardando Come era messo il coperchio Alla punta dell'iceberg Perché la coppa dell'olio è la parte più bassa E uno dice ok È la parte che è messa peggio Non è detto perché Potrebbe essere un problema di lubrificazione Come ho spiegato prima Perché non si cambia l'olio Quindi l'olio invecchia Oppure Anche dal tipo di olio Esistono degli oli economici Che pur essendo dei 530 Magari a parole con normativi C'è a destra e a sinistra Non hanno Delle qualità buone Non hanno dei poteri lubrificanti Che hanno oli Che magari hanno gradazioni maggiori Ma costano molto di più Non Vi domandate Quando un olio al supermercato Lasciando stare la marca Possa O supermercato O magari su internet Indipendentemente Possa costare 3-4 euro al litro E magari ci sono oli Che costano 20 euro al litro Questo non vuol dire Che io in una macchina d'epoca O in una macchina vecchia Dici cavoli Gli metto un 530 La macchina va bene Assolutamente no Ogni motore Ha la sua gradazione Perché Fai un esempio di questo Che è una macchina Comunque del 2010 E ha 2009-2010 Sul tipo di olio Il 530 Può girare anche col 540 Se io vado a mettergli Un olio più duro Ha le punterie idrauliche E ha dei passaggi di olio Per la lubrificazione Molto piccoli Il rischio di andare Ad intasare Con questo sistema Che è successo adesso Quei passaggi dell'olio E creare problemi Soprattutto alle cam Perché Se l'olio passa Sul pescante Della pompa dell'olio sotto È difficile che fonda Perché deve proprio Bloccarsi il pescante Ma sopra Io non ho problemi Di spia dell'olio Perché la spia dell'olio È sul pescante sotto O comunque Sul fitro dell'olio Sul bulbo dell'olio Ma è nella parte bassa Del motore Quindi se lui mi dice Io la presione dell'olio Ce l'ho Per me è violino In basso ce l'ho Ma non sappiamo Cosa arriva qua E quanto arriva qua È un attimo Che si bruciano le cam Si consumano le cam Perché Non hanno La lubrificazione giusta Certo Sentite anche dei rumori Di punterie prima Però Questo che non aveva Ancora rumori Quando abbiamo aperto Il tappo Ci siamo spaventati Infatti mi ha detto Gabri Facciamo una bella pulizia Allora Prima cosa Un bel prodotto interno Per togliere Almeno il grosso Scaricato l'olio Abbiamo tirato giù La coppa Abbiamo tirato giù Il coperchio Sorpresa a non finire Lì si pulisce La morchia Fino a che si riesce A vedere Si lascia dentro Un olio molto fluido In questo caso Un 530 Magari si fanno 1000-2000 km E poi si ricambia Ancora l'olio Per sicurezza Quindi non dimenticatevi Che quando si spegne La spia dell'olio E l'olio è al massimo Voi non sapete Quello che succede sopra Discorso inverso Io ho un olio Di ultimissima generazione 530 Che adesso addirittura Non ha aggiunto Gradazioni ancora peggio Tipo lo 020 Che è acqua minerale Quindi parliamo Di 530 Che è già un olio Che ha qualche anno Però è un olio Di macchine recenti Una macchina vecchia Dice che è bello Gli metto dentro il 530 La macchina va meglio Assolutamente no Perché i motori Di una volta Avevano tolleranze Quindi accoppiamento Sull'albero motore Sulle bronzine Ne parleremo un altro giorno Di questo discorso Però Completamente diverse Se c'era molto più lasco La gradazione dura Dell'olio Vi aiuta A compensare Quel consumo O quella distanza Che era stata creata Sulle bronzine Dell'albero motore O sui pistoni O sulle vielle Quindi L'olio Se io prendo un 530 E glielo metto A una lanciatema turbo E vado a fare un viaggio Sono capace che fondo Perché quell'acqua Quell'olio lì È acqua minerale Come si scalda Diventa troppo fluido La pompa dell'olio Non ha un potere Lubrificante Sufficiente Per garantire Una lubrificazione Continua Motore caldo Perché finché il motore È freddo Non ho problemi Anzi Forse va anche meglio Arriva prima Ma è quando si scalda E vi garantisco Che si scalda Quindi Questo aveva questo problema qua E l'abbiamo risolto Facendo questo tipo di pulizie Più andiamo indietro Questo è un SLK R170 Naturalmente Il tipo di olio Cambia Perché questo Motore qua Non può girare Con lo stesso olio Che gira quello Anche se è un motore Molto simile Qua andrebbe meglio Un 1040 O un 540 I passaggi dell'olio Se io vado a smontare Il coperchio Delle punterie Di questo motore Adesso qui non si vedono Purtroppo Ma sono molto più Grossolani Rispetto al motore Che abbiamo visto In precedenza Lo so Non si vede molto Però Ogni motore Ha il suo tipo di olio Poi è chiaro Una volta Le specifiche dell'olio Che dava la casa madre Erano riferiti Agli oli che c'erano In commercio All'epoca Questo è del 97 98 E' chiaro che Una volta Gli oli che c'erano Adesso non esistevano Ma le gradazioni Sono molto importanti Una volta C'erano gli oli minerali Poi sono arrivati Gli oli semisintetici Gli oli sintetici Però Mi raccomando ragazzi Controllate Sempre la gradazione E lasciatevi consigliare Da un bravo meccanico Che sia bravo Anche con un consiglio Non perché vi debba vendere l'olio Ma perché Ci sono dei tipi di oli Per determinati problemi E su determinate macchine Che credetemi Fanno la differenza Se io parlando di SLK Non ho fatto apposta E ne ho qua tre Veramente In un colpo solo Questo è un altro tipo di problema Però È molto simile All'altra SLK Qui abbiamo Una perdita di olio Dalla testa Vedete che arriva Proprio da sopra Arriva tra questo Spaccato qua Vediamo se riusci A far di luce Arriva proprio Da questo spaccato qua Questa macchina qui Ha due problemi Uno va ad acqua Quindi mangia l'acqua Ma quello è È il meno Ma ha una perdita D'olio Quindi In questo caso qua Quando si tirano giù Le teste Conviene sempre Fargli anche Le catene A questa macchina qua Perché È vero che le danno Per 250 mila chilometri E probabilmente Li raggiungono E li superano Però quando si fanno Questo tipo di lavori Riprendere i tiraggi Di una catena vecchia Non è il massimo E della vita E ogni tanto Io vi consiglio Qua c'è un po' Di lavoro da fare È praticamente Uguale all'R171 Giù la coppa È una bella pulizia Al pescante E al sotto coppa Perché voi Come guardate poi Nelle immagini Quando è venuta pulita Sotto Potete mettere Tutti i prodotti Del pianeta Ma non arrivate sotto E vi dico Un'altra roba I prodotti Per la pulizia È vero Aiutano Ma che cosa fanno Nell'olio Prima di cambiare l'olio Loro consigliano Di buttarlo dentro Col motore caldo E farlo girare Benissimo Bisogna vedere Quanta roba sciolgono Perché se sciolgono Se voi avete dentro Parecchia morchia Dentro nella coppa E questo Ve lo ammorbidisce Perché non è che Gli buttate dentro Un secchio di gasolio È una fialettina Da 300.000 ml Cosa fa Ve lo ammorbidisce Se va sul pescante Della pompa dell'olio E già è lì Compromesso Voi fondete Quindi Controllate sempre Che cosa avete nel coperchio Almeno nel coperchio E la qualità Dell'olio Tramite l'astina dell'olio L'olio nero Non va bene ragazzi Perché l'olio È la vita dell'automobile Figuratevi cosa fa Nel cambio automatico Figuratevi che cosa fa Nel motore E ogni tanto Almeno una volta Se voi prendete Una macchina E partite da un punto zero E non l'avete mai seguita Tirare giù la coppa E pulirgli il pescante E la base sotto della coppa Ma non Possono essere Come ho spiegato all'inizio Non solo perché Uno non cambiava l'olio Uno può essere una persona Questa persona qui Prima Il proprietario precedente A tutti i tagliandi L'hanno sempre cambiato l'olio Probabilmente hanno usato Un olio scadente O il caldo e il freddo È stato sfortunato Cioè Può capitare Come vi può capitare Nelle Opel Faccio un esempio Questo mi è venuto in mente Quando tirate via Il tappo dell'olio Che vedete Quella schiumetta Giallognola Quella è tutta condensa Di olio Non è per forza Sinonimo di aver bruciato La guarnizione della testa Capito cosa voglio dire Quindi Non partiamo sempre Col partito preso Chiedete sempre A persone che magari Ne sanno E vi possono dare un consiglio Chiaramente che sono persone oneste Vi diano un consiglio giusto Senza allarmarvi Quando non serve Però una bella pulizia Fa la differenza Nei fire Meglio che non ne parliamo Perché lì veramente Avendo un pescante Con una forma stupida Con una curva Con un gomito Si chiude Dentro nel pescante Si formano tutte Questa pasta L'olio passa molto meno Quando si accende La spia dell'olio E nel fire Si accende Per fire intendo Il 1200-2004 Nei metano soprattutto E nel fire Si accende La spia dell'olio In quel momento lì È già troppo tardi Perché sulla pompa dell'olio Voi non avete pressione Sul bulbo dell'olio Che è in basso Figuratevi che cosa avete Sulla testa Quindi ragazzi Fermatevi sempre Un attimino prima Un controllino Poi sei a posto La coppa dell'olio Non ha neanche la guarnizione È su con il mastice È qualche ora di lavoro Un controllo Una pulizia Sicuramente ne guadagnate Con il tempo Spero che vi sia piaciuto Una piccola parentesi Mi sembrava doveroso farlo Un abbraccio E alla prossima puntata Ragazzi Ciao Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Grazie.